Mi chiamo Marenco Renzo, sono nato nel 1927 a Savona, il mio nome di battaglia inizialmente era Lory, dopodiché l'ho cambiato con Morgan, un po' suggestionato dalle avventure di Salgari. Parliamo di un fatto che mi è accaduto nel 1944, probabilmente i mesi di aprile, maggio, forse anche febbraio, probabilmente più febbraio, tenendo presente che lo stabilimento a cui io avevo appartenuto negli anni precedenti era stato trasferito dai tedeschi a Milano in attesa di essere a sua volta trasferito in Germania, cosa che poi non è più avvenuta perché la guerra è finita. Perciò tutti i dipendenti fra i quali il sottoscritto erano a casa e non... Mi scusi, ha detto il mio stabilimento ma sento dire la Scarpa Magnano. Ah, non dovevo dirlo. No, no, lo devo dire. Ah, lo devo dire, sì, allora... Sì, sì, il mio stabilimento è della Scarpa Magnano. Lo dica adesso? Sì. Allora, ripeto, parlo dello stabilimento Scarpa Magnano, qui io dipendevo, che era un po' l'anima di Villa Piana, insomma, dove... Vabbè, eravamo, come ripeto, tutti a casa, eccetto un piccolo numero che aveva seguito lo stabilimento a Milano, ma era appassionato di 7-8 persone, il grosso era rimasto disoccupato. Allora, a quel punto, io non sapendo cosa fare, mio padre un giorno mi suggerisce di mettermi d'accordo con un signore che si chiamava Ricciotti, un portuale, mio vicino di casa, che andava tutte le mattine, o quasi, a farsi un po' di legna su verso la Madonna degli Angeli, passando attraverso la Piazza d'Armi, allora si chiamava Piazza d'Armi, adesso c'è il Gabbiano, vabbè, e io ho contattato questo signore e gli ho detto, guarda, se vengo con lei a farmi un po' di legna, lei mi insegna, vieni, vieni tranquillo, portati un'accetta e vieni, domattina partiamo verso le 8, andiamo su e ti faccio vedere come si fa per prendere queste radici, perché sono radici, perché altri tiravamo fuori delle radici, non certo gli alberi, e le radici chiamate indigure si chiamano brughe, il giorno dopo parto con questo signore, andiamo su, arriviamo sul posto, un posto che si trova fra poche decine di metri dalla Madonna degli Angeli, ecco per essere precisi, e ci fermiamo in un posto dove di queste radici ce n'erano parecchie, e ci mettiamo a scavare, lui mi dice, tu scava qui, lui si è allontanato di una decina di metri, scavava da un'altra parte, e non era difficile tirar su delle radici belle nodose, si capiva che era anche legna che avrebbe reso molto come il fuoco. Sarà stata un'oretta che facevamo questa operazione, quando voltandomi vedo distante una cinquantina di metri una colonna di fascisti, che li ho riconosciuti subito, li chiamavano i Birel Gobi, erano gruppi di giovani, 18, 17, 16, anche meno, con in testa un maresciallo della GNR. Venivano su lentamente, io li ho guardati con una certa curiosità, però poi ho continuato il mio lavoro. Li ho ancora forse guardati un paio di volte per vedere, mi domandavo dove stavano andando su quel sentiero, se non che a un certo momento mi accorgo che lasciano il sentiero e si dirigono verso la mia persona. Ma nel giro di pochi attimi mi trovo circondato da tutti questi giovani, hanno fatto una specie di rosa, abbiamo chiuso in mezzo, e io sono rimasto, non dico la verità, mi sono anche un po' trovato paura. Il mio amico distante una decina di metri osservava con curiosità quello che stava avvenendo, se non che nel mezzo del cerchio entra il maresciallo della GNR, un uomo anziano, non era un savonese, erano probabilmente di altra origine, non so da dove venisse. Sfodera la pistola, mi ricordo sempre che ha aperto il fodero, ma non ha impugnato la pistola, solo ha aperto il fodero. Poi mi dice, con tono molto aggressivo, butta via l'accetta. Io la tenevo in mano, questa accetta è una accetta anche abbastanza pesante, forte, e io la butto via. E senza dirne se e ne ma, ha cominciato a colpirmi con man rovesci sulle guance. E non tutti i colpi, ma due o tre colpi tanto violenti da buttarmi in terra, io andavo in terra. E non solo al dolore, si aggiungeva la rabbia, la paura. E non vi nascondo che piangevo, insomma, un pianto silenzioso, se si vuole, ma mi venivano lacrime agli occhi. E ogni volta, quando cadevo, mi dice, alzati, e mi colpiva di nuovo. Questo è andato avanti per parecchie volte, sono caduto due o tre volte sicuramente. E sentivo il viso, le guance che si gonfiavano con gli occhi, mi guardavo, vedevo le guance che stavano gonfiandosi come una camera d'aria, se così posso definirla. Oltre al bruciore, al dolore, e vedevo i militi tutti intorno a me, li intravedevo, più che vedere, che erano impassibili. Non ridevano, non mi schernivano, ma stavano fermi, impassibili. E lui continuava a picchiarmi. Poi, in un certo momento, mi dice, adesso riprendi l'accetta e vai a ringraziare, devi adesso... E' questa frase che mi ha lasciato perplesso tuttora, non ho mai più potuto vederlo. Mi risulta, anzi, che poi, durante la liberazione dalle voci, pare che l'abbiano anche fatto fuori, perché aveva sulla coscienza altre cose, e lui mi ha detto una frosa che io non riesco ancora adesso a spiegarmi. Adesso vai a raccontarla, questa lezione, vatela a fare ripagare da Stalin. Io, sinceramente, dopo, va bene, Stalin sapevamo tutti chi era stato, però in quel momento, sinceramente, Stalin per me era un capo di Stato, come tanti altri, non è che avessi fatto uno studio approfondito su questo personaggio. E mi sono poi domandato il perché, mi ha detto questa frase, probabilmente uno di quei militi che lui guidava, che mi conosceva, perché due o tre mi conoscevano, ci conoscevamo, potrei fare anche i nomi, gli hanno detto che erano certamente non fascista, che ero dalla parte di là, insomma, che era un antifascista, e lui sfogava la sua ira, perché la domanda che mi sono sempre fatto del perché mi abbia picchiato in quel modo, senza un motivo preciso, senza una ragione, che non mi conosceva, non conoscevo lui, non conoscevo due o tre militi di quei lì e basta. Secondo me era la rabbia, la reazione, per il fatto che lui capiva che stava finendo il suo mandato di prepotente, di violento, finiva, per lui era finita, finita se non fisicamente, moralmente, politicamente, politicamente, erano alla fine, andavano verso la fine e si sfogavano a quel modo, io me la sono giustificata così. Devo dire che dopo avermi, se ne sono andati via, sono, hanno proseguito, poi ho saputo che andavano al tirassegna a fare i tiri, io sono, su invito del mio amico che mi ha detto la legna, te la porto giù, io corri a casa, sono andata a casa, mia madre si è trovata paura per vedermi con quel viso e poi me la sono passata, me la è passata, facendo degli impacchi, sono fatto degli impacchi fin quando sono guarito. La domanda, non trovo altra risposta che questa, lui in quel momento, il suo comportamento era dettato solo dal fatto che sapeva che era giunto alla fine il suo mandato, lui era ormai uno condannato.